Allora, giovani amici di Facebook, sto continuando a smaltire tutti gli oggetti che ho accumulato durante Luca Comics & Games vi ho mostrato svariati oggetti ma ancora, insomma, come vedete ne ho ancora un casino sul tavolo quindi continuo a tirarne fuori, oggi invece del solito gadget vi mostro invece una maglietta addirittura questa viene da TT, che è questo sito italiano, ce ne sono tanti online che fanno magliette a scadenza ogni giorno una maglietta diversa è acquistabile unicamente in quel giorno lì quindi vi invogliano a comprare quella maglietta prima, se vi piace ovviamente quella maglietta prima che scadono le fatidiche 24 ore in cui è messa in vendita perché il giorno dopo non sarà più in vendita e ce ne sarà un'altra è un buon metodo, chiaramente funziona, funziona anche per TT, sono amici e ce ne hanno inviata una tra l'altro proprio il giorno, anzi no, non vi dico quando ce ne hanno inviata altrimenti si svela la sorpresa, quindi vado a fare l'unboxing, tra virgolette chiaramente l'unboxing della busta che vi arriva se comprate una maglietta su TT così vedete anche, come vedete il packaging, intanto è molto fico, è fico assai qui c'è tutti i miei indirizzi cazzi miei che vi starete copiando per inviarmi pacchi bomba invece su il retro ci sono un po' di frasi che non mi va di leggere ma comunque che ci piacciono perché la tipografia ci piace sempre, me la sono giocata così e vado a spaccare tutto sperando non anche la maglietta con il mio fidato coltellino da unboxing faccio tutto questo bel unboxing, è una maglietta bianca, sapete che io amo le magliette bianche e non quelle colorate, l'ho detto, è successo e qual era? era quella di ritorno al futuro quindi tra le tante magliette disponibili su TT ho scelto il giorno giusto perché era appunto il mitico 21 ottobre 2015 e quale altra maglietta potevano fare se non questa in quell'occasione le magliette che vi arrivano come vedete sono delle Gildan quindi Soft Tile Ring Spoon hanno un taglio decente, in particolare a me interessa la manica che deve essere un po' più piccola e non il classico sventolone da magliettone americana e anche il taglio è un po' più diciamo stretto in vita cioè dritto diciamo e non da power ciccione è chiaro che se siete invece un ciccione le taglie più grandi dovrebbero calzarvi meglio e niente, questo è, vi ho mostrato come funziona TT ricordatevi che ogni giorno c'è una maglietta diversa quindi oggi non c'è questa maglietta qui questa maglietta qui non la potete più comprare calzi vostri, la dovete comprare il 21 ottobre me la sono ciucciata io alla faccia vostra magari oggi c'è una maglietta molto vivata di questa o forse ci sarà domani o dopo domani chi lo sa? comunque costano poco, arrivano in poco tempo vi consigliamo tt.eu e ci vediamo al prossimo unboxing fate like, fate share se volete comprare seguite il link qui sotto così noi ci arricchiamo big money alla faccia vostra e ciao ragazzi! ciao! 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 ciao!